ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video della storia dei circuiti oggi parliamo del circuito salzburgring questa è la mappa del circuito il salzburgring è un circuito permanente situato a kopp nei paesi di salisburgo l'impianto sportivo è situato in una stretta vallata alpina i cui ribidi fianchi fungono da tribune naturali e questa sua collocazione ne influenza il disegno del tracciato del caso della carenza di adeguate vie di fuga il tracciato inaugurato nel 1978 a lungo e lungo 4,2 km e aspettato negli anni numerose competizioni motoristiche mondiali di alto livello quali in moto mondiale del 1971 al 1994 quasi interrottamente solo nel 1980 casa a casa della neve e nel 1992 non vi si tenne progare e il camminato mondiale superbike quest'ultimo solo nel 1995 quando erano in corso il lavoro di trasformazione dello star racing in a1 ring nel 1976 sarà aggiunta la chicane prima del traguardo che ha rimpiazzato la precedente curva veloce a sinistra a causa della mancanza di vie di fuga in quell'area mentre per il 1986 fu aggiunta una seconda chicane a metà strada tra la partenza e la prima curva essa veniva utilizzata soprattutto dalle moto ma dal 2000 è stata riprofiliata ampi adame scusate ampi adanate le vie di fuga in quel punto e sarà rimossa la rivista originale adesso anche le auto devono percorrerla uso dopo essere stato abbandonato dalle maggiori campionati mondiali in tempi recenti vi si tengono soprattutto gari categoria turismo a tale proposto il 19 ottobre 2008 vi si svolta la coppa europea fiero penturing cup car cup una competizione annuale che si tiene a fine stagione sotto forma di un unico evento su doppia gara e che disegna il miglior pilota di tale categoria tra tutti coloro che abbiano partecipato rispettivi campionati nazionali tale competizione tornata sul tracciato astriaco anche nel 2010 2011 2012 2013 a parte da stagione 2012 anche il w tcc è ritornato su questo tracciato e questa è la storia al circuito di san salzburgring se il video ti è piaciuto come sempre vi invito a lasciare un bel mi piace per questo video è tutto e non ci vediamo alla prossima ciao 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 ciao